Anche se siamo ad agosto, stavolta non mancherà il numero legale in consiglio provinciale, perché in occasione della prossima seduta convocata per domani alle 18 sarà presentata ai consiglieri la nuova giunta d'Orsibis. L'ordine del giorno della riunione, convocata dal presidente Raimondo Buscemi, prevede la discussione di 13 punti, tra cui le relazioni semestrali del 2009 del presidente della provincia di Agrigento Eugenio Dorsi. Il regolamento per le adunanze e il funzionamento del consiglio provinciale e delle commissioni consigliari e la modifica del regolamento per l'assegnazione di fondi agli istituti di istruzione secondaria di pertinenza provinciale. Cinque, invece, i riconoscimenti di debiti fuori bilancio da approvare a seguito di sentenze della magistratura. All'ordine del giorno anche la mozione del consigliere Gioacchino Zarbo sulla strada di collegamento con la statale 640 e prolungamento via Portella di Mare Favara. Prevista anche la discussione della modifica del regolamento per la disciplina delle congestioni ed autorizzazioni e per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e di aree pubbliche, COSAP. Due, infine le interrogazioni. Una sulla mancata stabilizzazione dei precari della provincia di Agrigento, mentre l'altra sui contributi per l'anno 2010 per il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge della provincia di Agrigento. Essendoci anche le novità dell'aggiunta, tutti i consiglieri che nelle ultime settimane hanno dato forfè saranno presenti alla riunione che potrebbe essere la prima e l'ultima di questo mese per dare la possibilità a tutti di andare in ferie. Grazie a tutti.